Carissimi fratelli e sorelle, buona domenica a tutti e buon inizio di quaresima, buon inizio di cammino, di penitenza, di conversione, buon inizio di una nuova conoscenza dell'amore di Dio nel suo figlio il Signore Gesù. Iniziamo questa nostra quaresima, questa nostra riflessione, ecco leggendo questo breve Vangelo che la prima domenica di quaresima ci offre. Subito dopo lo spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni, tentato da Satana, stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Questa frase l'abbiamo udita a mercoledì scorso, convertiti e credete al Vangelo oppure ricordati che sei polvere e polvere ritornerai. Due frasi, forse una più cruda dell'altra, però che portano in sé lo stesso significato, cioè ricordati che Dio è il tuo presente, che Dio è il tuo futuro, ma che Dio è stato il tuo passato e lì dovrai ritornare. Perché tu vieni da qualcosa che è più grande di te. Ma il senso della compiutezza, il senso della compiutezza che Gesù vuole rimandare a noi, che è il senso più intrinseco dell'alleanza, vedete, non c'è alleanza senza compiutezza. Potremmo dire che la compiutezza, cioè il fatto che qualcosa si compia, che qualcosa venga sancito, diciamo anche noi a volte sancire un'alleanza, ecco questo è lo scheletro, l'asse portante di ogni alleanza, di ogni patto, di ogni connubio, di ogni stretta di mano che noi possiamo avere con Dio o con gli altri. E quella stretta di mano, quella compiutezza realizza l'alleanza. Ma che senso ha anche la luce del Vangelo, ma anche la luce della prima lettura che abbiamo ascoltato, è quella grandezza della compiutezza che si riversa nell'alleanza. Vedete, per significare la compiutezza, la prima lettura utilizza frequentemente come leitmotiv il verbo cum, e lo utilizza in una forma causativa, cioè ecco, la compiutezza veramente è causa dello stabilimento dell'alleanza. E questo verbo, il verbo cum, è interessante perché è il verbo che anche il Signore utilizza per dire a qualcuno alzati, sorgi, elevati. E nella forma grammaticale questo cum può essere utilizzato anche per dire a qualcosa, ecco, questo qualcosa accade subito, accade adesso, questo qualcosa è già presente, c'è. E' presente nella tua vita, è compiuto. E questa alleanza che è compiuta, ecco, accoglie in sé una particolarità, che è il libro di Genesi, qua, nei versetti 9-10 ci offre. Che cosa dice l'autore di Genesi? E io sono stabilente, stabilisco con voi, faccio innalzare con voi un'alleanza, con voi e con ogni stirpe che è accanto a voi, che è dopo di voi, che è altra da voi, anche se voi non la conoscete, io lo faccio. Io sono presente, io sono presente, e con ogni anima vivente che è con voi, volatile, bestia, e ogni vivente della Terra che è con voi, questo con voi, rimane sempre. Ecco, questa vicinanza della subitaneità dell'amore di Dio. E poi qui arriva la parte veramente interessante, che sconvolge i nostri piani, perché noi pensiamo che il diluvio abbia distrutto tutto, che la morte abbia distrutto ogni cosa, che la Quaresima sia periodo dove ricostruire dalle nostre macerie. Ma in realtà la Quaresima è periodo di restaurazione delle nostre case per far diventare qualcosa di vecchio, qualcosa di pregiato, proprio perché è antico, e in questa antichità diventa sempre nuovo. E da tutti gli uscenti dall'arca, l'alleanza viene stipulata per tutti coloro che escono dall'arca e per ogni vivente della Terra. Fermiamoci un secondo su queste due particolarità. L'alleanza viene per tutti coloro che escono dall'arca. Vedete, l'arca, ecco, in ebraico, teba, significa anche cesto, significa anche cassapanca, significa arca, è lo stesso termine che viene utilizzato per la cesta di vimini impiastrata di pece di Mosè. Ma è interessante perché i linguisti la assomigliano anche al significato di feretro nel dialetto siciliano e in tabuto, proprio dall'arabo tabut. Quest'arca, coloro che escono dall'arca, coloro che escono dal loro feretro, dentro un feretro che c'è, dentro un feretro c'è ciò che è morto, ciò che è irrecuperabile, ciò che è freddo. Ciò che è un male, che fa soffrire, che ti stringe il cuore, ciò che sembra irrecuperabile, ciò che non vorresti mai che fosse. E Dio stabilisce l'alleanza proprio con ciò che esce da esso. Lo rende ciò che esiste, ma lo rende ciò che esiste in modo diverso. Come? Non solamente ciò che esce dall'arca, e quindi che appare freddo, ma anche per ogni essere vivente. L'Ekol Hayatzi Aherezzi. Ogni essere vivente della terra. Abbiamo due origini. Non solamente ciò che è dentro l'arca vive, ma anche ciò che è nella terra. Questo che significa, fratelli e sorelle, che il diluvio non ha distrutto tutto. Che il peccato non distrugge tutto. Che nella carne che ci contraddistingue, che ci rende fugaci, mortali, che ci rende persone che sono fragili, non tutto è distrutto, non tutto è perso. Non tutto veramente è un male. Non tutto ciò con la quale noi interagiamo è un male. E anche se può essere a volte un male che fa soffrire, la parola del Signore che sancisce un'alleanza, che dice a quell'alleanza, c'è ed è per coloro che sono usciti dal loro feretro e per coloro che hanno subito il diluvio, ma non sono morti in esso. È un'alleanza che cambia il nostro modo di intendere il male e il bene. Perché dietro quel male e quel bene non c'è solamente quello, ma sono integrati, sono sanciti, sono resi attuali da una realtà che li contraddistingue e che può essere scovata. E cioè l'amore di Dio e l'amore di Dio dentro di noi. Un amore che è più grande del male. Un amore che è più grande anche del nostro bene. Un amore che ci rende, ci dà la capacità di interagire con la nostra vita, scavando nella nostra vita qual è il bene che non è totalmente sepolto, che non è totalmente defunto, che non è cenere, ma che è qualcosa di vecchio, che invece adesso, rinnovato dal Signore Gesù, dal suo annuncio, diventa qualcosa di antico, e di nuovo, stava con le fiere, quindi stava con tutto ciò che è pericolante e pericoloso nella nostra vita. Ma gli angeli lo servivano. Cioè quegli portatori di un annuncio che è bello, che è nuovo, che è gratificante. Comunque l'annuncio che veramente salva il tutto della nostra vita. E che dice la nostra vita, guarda che c'è un'alleanza, guarda che c'è un subito, guarda che c'è qualcosa di estremamente più grande di quello che vedi. Guarda che nella tua vita, nella tua alleanza che io ho stretto con te, ecco, c'è qualcosa che è compiuto, che è presente. Ecco, molte volte nella nostra vita dobbiamo allontanarci da credere che qualcosa avverrà. Dobbiamo credere che qualcosa già è presente. Il Signore vive a pace e vi colmi di ogni bene.